Indossare e possedere ciò che non indossano gli altri, per essere unici. Questa è la mia filosofia di vita e questa di conseguenza è la filosofia di Passaggio Cravatti, sin dalla sua nascita. Il potere indossare, infatti, un qualcosa di introvabile, di unico, capace di incuriosire e di essere apprezzato dagli occhi altrui, è tutto per me. Infatti, Passaggio Cravatti ha questa piccola grande missione, rendere più unici i gentiluomini di tutto il mondo. E come facciamo? Lo facciamo attraverso queste stoffe vintage vere, ancora stampate a mano, molti anni fa, tra il 1960 e il 1990, in Italia o in Inghilterra. Siamo fieramente fuori da tutte le logiche commerciali, che prevedono le due collezioni stagionali, con migliaia di pezzi distribuiti in tutti i negozi del mondo. Noi siamo come gli antiquari, siamo cioè sempre alla ricerca della miglior stoffa vintage da poterti presentare, per renderti unico, diverso da tutti. E questa garanzia di unicità, con il vintage, c'è veramente, perché queste stoffe che vedi qui, sono davvero tutte in via di estinzione. Di alcune stoffe, infatti, possiamo realizzare solo una o due cravate, poi il tessuto si estingue per sempre. E proprio in questo preciso momento, solo noi siamo felicissimi, sì perché stiamo realizzando, rigorosamente a mano, un'unicità vera, reale, che solo pochissimi potranno indossare. Questa è la filosofia di Passaggio Cravatti, che portiamo avanti da circa dieci anni, ovvero la filosofia dell'unicità.